Guardate com'è facile preparare questo primo piatto con una crema di patate e tonno, velocissimo e gustosissimo. Sbucciate le patate e tagliatele a pezzi. Versate poi in una padella dell'olio, uno spicchio d'aglio infilato in uno stuzzicadenti, in questo modo poi lo troverete in mezzo alle patate. Aggiungete dei rametti di rosmarino e della salvia, le patate, un pizzico di sale, dell'acqua e fate cuocere per 15 minuti. Quando saranno cotte eliminate aglio e rosmarino. Versate metà patate nel bicchiere del frullatore di immersione, aggiungete dell'acqua e frullatele fino ad ottenere una bella crema. Fate cuocere la pasta, il tempo indicato è comunque al dente. Quando sarà cotta versatele nella padella assieme alle patate a pezzetti. Aggiungete della crema di patate ed unite poco alla volta dell'acqua di cottura della pasta, in modo da rendere cremoso il condimento. Completate con il tonno e spolverate con abbondante prezzemolo. Manticate fino ad ottenere una pasta bella cremosa. Servitela ben calda e se la provate fatemi sapere! Servitela ben calda e spolveratecente del frullatore di www.seならbastici.se Servitela ben calda e farse ad forcément nozini. Servitela ben calda e coluri che metà ne lasciano assieme al oggone agastica feiscor di mancarina. Gruлич finishedelata in casa